Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite, un nuovo episodio oggi perché parliamo di questo elicottero misterioso che dall'inizio della season 8 ha cominciato a spostarsi praticamente per metà mappa. Non so se voi avete notato questa cosa, e molti ovviamente me l'hanno scritto su Instagram via messaggio privato, ma ne stanno già parlando sul web. Vi ricordate quando il cubo ha cominciato a spostarsi per tutta l'isola per poi finire a sponde del saccheggio e sciogliersi completamente? Sicuramente ecco, sembra che la stessa cosa si stia un attimo ripetendo con un elicottero. Un elicottero che sembra partito da Laguna Languida perché già i primi giorni dell'inizio di questa nuova stagione l'abbiamo vista lì in alto. E quindi oggi andremo a vedere, grazie a Reddit, una prima mappatura di questi spostamenti che ha effettuato l'elicottero in questi giorni passati, da inizio season. E per farlo, ragazzi, switchiamo subito a schermata e andiamo a giocare qui su Fortnite, così vediamo insieme dove sta attualmente, se riusciamo a vederlo. Andrò a basarmi sulla mappa di un utente su Reddit che ha deciso di tracciare il tutto e pubblicarlo direttamente sulla piattaforma. Per supportare questo tipo di video, supportatemi con Dragon Ufficiale nello Shop del Game. E commentate qua sotto se oggi lo farete o se lo state per fare o se l'avete già fatto. Come sempre vi ringrazio e andiamo a vedere la mappa. Boom! Eccola qui, ragazzi, eccola qui direttamente da Seawood, un utente su Reddit. Abbiamo fino adesso 5 spostamenti, infatti già metto singolo e inizio la battaglia, sono su Fortnite Mobile, raga, così. Ce l'andiamo anche un pochino a giocare sull'iPad con le mie dita. Guardate un po', è partito lì da Laguna Languida, quindi a nord della mappa. Poi si è spostato sulla zona destra, dove c'era praticamente bosco, per finire poi a fare tre movimenti nell'area di Palmetto Paradisiaco. Diciamo che questa mappa già ci suggerisce che l'elicottero possa effettivamente farsi tutta la mappa, fare tutta la zona verso l'esterno di questa mappa. Ok, ma la cosa più importante è, chi è che sta guidando l'elicottero? Perché c'è questa cosa e perché soprattutto si sta muovendo? Sicuramente, raga, sono domande che possiamo farci esattamente come abbiamo fatto con il cubo, quando ha cominciato a spostarsi partendo da Palmetto Paradisiaco. E possiamo anche pensare che effettivamente qualcuno stia guidando questo elicottero. E che l'obiettivo sia arrivare ad un punto preciso e che poi possa succedere, perché no, un evento esattamente, ripeto, come con il cubo. Quindi io direi adesso di andare al punto 5, precisamente lì al punto 5, a Palmetto, a sud di Palmetto e provare a vedere se l'elicottero sta ancora lì, perché raga, sono ovviamente curioso. Allora, il punto ci segna? Il punto ci dice esattamente qui sopra, quindi noi ci andiamo di cattineria e vediamo, raga, se l'elicottero effettivamente sta ancora lì, come segnato dall'utente su Reddit. E la cosa, raga, ovviamente è curiosa. Perché un elicottero? Why? Anche perché questa season è a tema pirata e l'elicottero non lo so. Questa cosa mi manda a un senso negativo in realtà. Appena vedo questo elicottero, infatti eccolo lì, mi viene in mente qualcosa di negativo. Come se ci sia per forza una forza negativa all'interno del gioco o magari un evento, perché no, che crei qualche disagio. E intanto, ragazzoli, eccolo qui. È giusto così. Adesso, oggi è il 21 marzo e sono le 10.26. Aspettiamo e vediamo quanti giorni passano, quindi vi terrò aggiornati, raga. Anzi, raga, un bel like se volete che segua tutta la storia di questo elicottero da oggi, 21 marzo. E più vi supportate come creatore, raga, e più vi aggiorno al meglio possibile di qualsiasi storyline che si vada a creare nel game. Tra l'altro, se la colpiamo, se colpiamo l'elicottero, ci facciamo metallo, ovviamente, ci facciamo materiale. E se gli diamo un'occhiata velocissima, vediamo un po', vediamo un po'. Possiamo anche salirci sopra, vedo. Ok. Questo elicottero, tra l'altro, c'ha un... Uh, ma c'ha un... c'ha un telescopio all'interno. C'ha un telescopio all'interno. Cosa che in realtà... Adesso non ricordo, raga. Dovrei vedere un attimino il video di tantissimi mesi fa in cui avevamo visto l'elicottero lì a magazzino muffito. Vi ricordate quando c'era l'elicottero capovolto a terra? È tornato, ragazzi. Questo è lo stesso elicottero. E tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa importante. Prima di andare a farci una partitella su Fortnite, qui sull'iPad Pro, 11 pollici, Vi ricordate che in data 29 luglio 2018 ho fatto un video chiamato È iniziato un nuovo rumore dalla crepa su Fortnite. Elicottero militare? Vi faccio vedere qui una breve clip, ragazzi. Sentite qui il rumore di quello che era già un elicottero nel mese di luglio. Sentite. Sarà forse questo l'elicottero di cui parliamo in questo momento? Anche questo è un nuovo mistero, direi. Fatemi sapere qua sotto, nei commenti, se secondo voi è questo. Se il rumore è relazionato a questo elicottero presente qui con la season 8. Ok, ragazzi, buttiamo a spondi del saccheggio il mio punto preferito della mappa. Oh, c'è anche un po' di gente, vedo. Ottimo. Mi prendo questi due forzieri, se riesco. Ci sta. No, forse si sono spostati in realtà, sono andati più avanti. Uh, intanto lì c'è uno di sopra. E ok. Poi ce n'è anche uno di là, attenzione. Mi prendo questo, munizioni, ottimo. Ok, un po' di gentaglia lì, vedo. Vediamo se riusciamo. Attenzione, attenzione, qualcuno fa malissimo da lontano, vedo. Ok. E si fa e lancia sto coso, però. Vediamo se viene qua. Magari. Lol. Vediamo se va. Ah, pensavo fosse ancora lì, eh. Mamma mia, che cattiveria. No, non ci sono munizioni per il cecchino, davvero? No, che peccato. Lol, 3 HP. 3 HP non posso fare questa cosa. Ma io, raga, ci proverei. No, dai, è quasi morto, non ci credo. Mi sta aspettando, eh. Ovviamente deve ricaricare, ma... Ripperotti per lui. Oh, bene, bene così. Un po' di muni. Lì ci sta ancora un bauli, tra l'altro. Ce lo prendiamo subito. Carichiamo il cecchino. Attenzione, arriva uno col quad. C'era anche lo snowboard qui vicino, ci sta. Mi prendo questo. Questo va lì, perfetto. Ok, direi ottimo, raga. Ottimo. Ci spostiamo con il driftboard, eh? Ok. Dove sta questo? Dentro. Tattico. Così. Ah, peccato. Lol. Yes, man! Ok. Oh, no. Sì. man ok siamo a 6 gg andiamo di qua così tacchete wow what gli saltiamo addosso mamma mia quanto è rischiata questa wow mi stava mirando da tre ore questo e niente ragazzi sono morto brepperoni dai raga questo era un video notizia mi raccomando fatemi sapere qua sotto un bel commentino ciao